Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina sull'autostrada che collega Grigento a Caltanissetta. In mattinata, infatti, 5 auto si sono scontrate sull'autostrada 640 che collega il capologo Nisseno alla città dei Templi, all'altezza della Galleria Papazzo, nei pressi dello svincolo per San Cataldo. Nell'incidente sarebbero rimaste ferite 3 persone che sono state tempestivamente trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Subito sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del capologo Nisseno e i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti, uno in codice giallo e due in codice verde, all'ospedale Sant'Elia. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Indaga la polizia.